salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel taleale eccoci qui di nuovo il nostro cavaliere arturo proseguiamo le nostre avventure in questa nuova zona vediamo chi ci sarà di inchiappettarci chi è il tipo attenzione somiglia solaire occhio che rischi se sfoggi il tuo salve ma è morto un uomo ah è nemico aspetta da dietro mi scusi eh cazzo però questo è resistente eh che già con quella mossa non c'aveva la vita ancora ma c'è lunga di eide va bene se sono questi quelli che incontreremo mi sa che siamo nella merda ho sentito camminare vabbè non mi sento sicurissimo comunque questi sottopassi così oppela il nostro arturo così eurovo sprezzante del pericolo non si vede una sega qua piove bene non si vede niente comunque eccala guarda che figlio di troia e basta aspettate quelli su abbiate un attimo di pazienza eccala e vabbè fiaschettiamoci e proseguiamo in questa zona che sembra abbastanza inquietante c'è qualcuno imboscato castello di drang lake mamma mia che figata e mamma mia quanto moriremo già lo so riesco magari prima o poi ad ammazzare ste cazzo di niente non troveremo mai le nostre e la va bene no signori adesso lei mi spiega com'è venuta qui cioè uno strappo non me lo poteva dare eh ho capito mica tanto però è abbastanza popolato ciò nonostante tu non stia a fa un cazzo signorino non è per fiducia eh però eh rimane anche perplessa la baltracca ma adesso la ritrovo anche a majula se dovessi salire di livello o è un'inculata semmai troverò un falò questo è scontato va bene eh però che figata no a parte tutto cioè sarà la nostra tomba però è una bella tomba eh ecco oh ma che state fuori ma che fa prima mi fate le statue e poi mamma mia la cattiveria no una possiamo ok attenzione scusate come cazzo ma non gli sto a fa niente ah si ma poca la puttana bene bene quindi ripartiamo da buh ah e la cazzo porca troia un falò più vicino però mi dovete mettere come cazzo faccio io qua da millemila chilometri aspetta varmonizza incantesimi toglimi questo e mettimici una piromanzia di quelle tipo combustione nebbia velenosa non è male questa ci difende un po' di più mettiamo la nebbia velenosa che che ci piace mettiamo magari anche il nostro guanto tanto si eh no 69.2 mi sa che quello pesa di più non è vero non pesa un cazzo bella arturo mi raccomando devo rifarci tutta la strada vacca troia dai cerchiamo di fare una cosa veloce giovani non fate perdere tempo voi e la vostra palla ok no però siamo troppo lontani cioè questa è la cosa che mi fa incazzare a me il fatto di doverci rifare ogni volta milioni di chilometri dove si qua aspetti cala cazzo è uscito da quest'altro cosa ogni volta ci dobbiamo fare tutta questa strada spero che ci sia un altro falò magari guarda qua dai è impossibile che non magari non l'ho visto io eh forse me l'avete pure detto nei commenti ma sto registrando di seguo quindi non saprei andiamo un pochino guardiamoci magari un po' meglio intorno qua non si può salire sono perso qualcosa sembra di no va bene a meno che non c'è qualche parete illusoria però proprio una bastardaggine c'è un falò più vicino lo voglio lo esigo non è che ci vorrebbe proprio lo voglio bisogna mettercelo per forza aspettate mi metto qui sotto un momento venga qui ok un momento che fa scende aspetti allora mi vengo incontro attenzione sprezzante del pericolo va in aiuto al suo amico questo l'arturo si mi guardo intorno per vedere se c'è un fottutissimo faloma signorina ma lei non c'ha la puttana di Eva niente cose proprio la signorina se l'è bella che è andata che cazzo gliene frega lei tanto ci sto io qua a pia le legnate sui denti vabbè va cerchiamo di non vedo niente all'orizzonte eh a parte qualche figlio di troia facciamo una cosa mettiamo no dov'è la la piromanzia posso mirarli prima che si incazzino no c'è la puttana vai 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 avvelena avvelena e vattene quello piano piano si muore anche l'altro oppala oppala via via oh oh ma che so pure sportiveggianti state calmi questa è una strategia non è dire da godardo è che lascia fare lascia fare è che con comodo no eh calla stanno ancora morendo si ah non ce n'ho più vabbè abbastanza cattiva la nebbia adesso ha smesso di fare su effetto porca puttana di Eva via ma che stai fuori si queste sono vero e proprio inculate però eh ok uno è andato mamma mia che cattiva spero che non siano dei dei tipi che rinascono ogni volta perché se no vero e proprio inculato giovani mo vengo da voi arcieri mo me la pagate cara si tira tira le frecce te le fico nel venga qui lei si ricarica porca puttana oh che cazzo è spero che cazzo è che cazzo è che cazzo è succedo ma si è acceso l'omino ma sono stato ma che cazzo buon uomo vabbè mi faccio un giro qua dietro per vedere a parte i figli di troia che che rigiciano che rigiciano c'è la troia come cazzo sta succedendo c'è niente qui proviamo dall'altro lato non ho capito se quello si è attivato perché gli ho dato una tampinata sul tb e perone vabbè andiamo magari anche dall'altro lato lei che fa cioè devo fare un po' così abbiamo svegliato qualcuno ma da dove cazzo escono scusate non vorrei dire niente ah aspetta allora forse rinascono perché servono per attivare questo ok prego buon uomo faccia lei io intanto mi vado a fare un giro magari ci aprono la porta questi tante volte l'inculata dietro l'angolo attenzione perché la spada sta morendo la combustione però non mi dà fiducia svea questi hanno fatto qualcosa no Monfalo ci deve stare non è che Artù io non è che mi fidi tanto qua eh quello che cazzo amo e basta guarda la roglia di Eva eh dai allora ditelo no eiam non mi fa riusci però pure quei cacacazzi perché incazzo concattivare cazzutaggine aspetti buon uomo oddio sto per vomitare fammo dall'altro lato un po' qui un po' lì ma che cazzo è questo c'è lo stesso scudo nostro quindi mi sa che oh do io sarei incazzato fe fe oggetto a rischio spada bastarda usiamo una fiaschetta e ripariamo la spada dov'è questa qui usa cioè siamo sparata addosso come siamo fatti li campanellino si un pochino l'ha riparata però non è che sia sta gran cosa allora so che magari vai a parlare col tipo fatti inculare dal tipo e basta guarda che figlio di mamma mia Arturo mamma mia azzorro vaffanculo va momento aggiriamoci tutto perché qua magari sotto qualcosa ci perdiamo delle piccolezze eh questo cazzo ci perdiamo qua scusate una alla volta per favore non una porca puttana mia momento ho doio sta a favore giro opla faccio pure io giro opla va là merda porca troia spero spero mi serve una fiaschetta se tu te ne vai affanculo però momento torno subito vado un attimo abbia pazienza che è sta cattivata eh dai sta a favore del bullo sta a favore ok adesso possiamo andare lì ma no non vorrei che qua magari ci sta tipo un fallo non è vero questo no che parla che cazzo vuoi parlare con questo ci parliamo andiamo prima sotto ormai abbiamo aperto io sto aspettando un fottutissimo fallo quindi prima che succeda qualcosa di brutto vorrei salvare uno tra queste qual è la porta giusta che siamo a fa permesso ecco ok scusi attenzione ok che cazzo dobbiamo fare proviamo magari risfuggiamo sopra attenzione guardiamoci bene intorno no no questa è un'inculata questi si svegliano lascia perdere lascia perdere sarà per un'altra volta fratelli anche perché ho la spada a pezzi cazzo fottutissimo fallo che non ci sono o magari ci sono ma sono dietro qualche parete illusoria non saprei qua è permesso eh no aspetta qua ci deve stare qualche parete non è vero si ho premuto già se qualcuno se lo chiedesse eh no queste sono chiudere allora andiamo a parlare col tipo dai fratello dammi una mano fa qualcosa un SOS magari dentro qualche cupola no le cupoline l'abbiamo veste sembra che non c'è un fortuna tra l'altro ma che sono stato io eh Arturo stai calmo giovane questo castello è il dominio del re vendrick intenzionale veramente sono venuto ok che è su altezza giovane va bene non lo so eh quindi l'ha gorrotto eh le regine sono così va bene e le regine ci sono un maestro che è di vendrick l'ho ha il l'ho la pronto l'ho 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 v Tara la l'ho l'ho e l'ho 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 e gli ho se stiamo freschi che si dimentica giovane stavamo a parlare fino a due minuti fa si vorrei salvare cioè non è per qualcosa che vende riduce la degradazione dell'equipaggiamento oddio 9000 cos'è freccia che inflige danni magici danni da fulmine c'è un po di belle cose cos'è gemma vitale radiosa rischia notevolmente gli utilizzi degli incantesimi eh niente eh vabbè ciao fratello allora che cazzo stiamo a fare l'arta perde dai aspettate devo saper forza un'altra di queste perché qua facciamo una brutta fine 25.000 anime c'era pure la porticina sotto però mi sa troppo d'inculata qua io vado sotto vado sotto vado sotto lascio a fare non ci inculano sotto sicuro però magari sotto che ne so ci sta un falò ci sta qualcosa questo che è è impossibile che arriva sotto quel cadale sì possibilissimo qua magari facciamo una cosa tipo stealth allora iniziamo con l'attaccare tutti magari senza spaccare la spada contro il muro perché già sta a pezzo ok lui no è lui neanche è il giovanotto no no ragazzi io non mi fido eh voi dite vabbè vai avanti no questi c'inculano vedete vedi che quelli che non ho visto c'inculano guardati le spalle Artù che cazzo è mo quello momento oh scusate posso mostrare il simbolo del re un'altra volta non ce l'ho sto simbolo del re che dovrebbe essere un anello comunque al momento non ce l'ho quindi no qua qua secondo me qua c'è un falò mamma mia mamma mia ci stanno di solito queste stanzette mamma mia che botta di culo grandissimo Arturo le sensation le sensation viaggia subito a Manciula gioca di ste cose al casino che tra l'altro possiamo salire messe da solo di un livello però ho detto niente questa zona non è che sia molto ospitale signori tu vai e vieni come cazzo di fare magari aiutarmi no l'atore di sta ceppa e basta sempre adattabilità che almeno aumentiamo un po' resistenza a tutte ste cose vai non è vero vai questa con la piumetta vabbè se vede io vado eh stavolta ce l'ho pure il teletrasporto aspetta un momento dove è qua questo è lo dico si adesso stiamo già un po' più sicuri sicuro è una parola grossa però mo ci rimette tutti sti cosi che rompono i maroni ma va bene proseguiamo qua in quest'altra stanzetta che non abbiamo visto dove sicuramente si rianimerà pure il mondo eccala no merda lanciate il soldato di pietra e che cosa oh che cazzo è successo ah lì dovevo ammazza vicino vaffanculo e basta eh no vabbè allora è in inculata che cazzo fa oh è là no ma questi non erano tipo quei boss sentinelle non lo so ma sono cattivi sti cazzo scusi buon uomo diciamo un'altra volta perché qua mamma mia sei cattivo e soprattutto non gli ho fatto niente è ancora qui dove cazzo è andato salve ci mettiamo qua dentro con comodità mamma mia facciamo una testa da dietro no non funziona attacchi da dietro mannaggia la puttana ma che stai fuori Artù dove cazzo ti sei chiuso Artù vattene vattene Artù cioè tipo ce ne sta uno in ogni stanza aspetti facciamo una cosa va tanto ci sto un falò venga qui dagliene un'altra no proprio si caga nelle mutande dall'avvelenamento dove cazzo scappi stai là dentro giovane corri corri che ti fa bene vai vai facciamo agire il nostro veleno no magari se facciamo agire sul veleno e basta ecco là è finito il veleno eh vabbè facca puttana c'è un bel po' di anime però lascia pure un po' messi male qua non c'era niente sembra aspetta che vi devo ammazzare vicino sti cose non apriamo le porte allora aspetti lei venga venga qui barca puttana venga qui con me che l'altra porta abbiamo fatto un fail venga qui si dai qua bravo ok perfetto tanto mi da tanto qua riesce uno spilungone che ci incula non è vero ecco là momento ok cosa c'è? freccia di oscurità dove è l'ingulata facciamo vedere le radiosi fa tutta la colma del monastero ma ce le facciamo tutte queste porticine qua questa dove cazzo mi sta portando oppela c'è tutta gente pietrificata che se si spietrifica succede un macello dove cazzo sono da figo oh che cazzo era? tira giù il carretto tira giù il carretto no eh mamma mia persi nei meandri del castello vabbè vabbè andiamo eh come se non ci fossero domani proprio me no io non mi fai eh calla che non lo sapevo quelle bianche mi sa che sono quelle che sputano perché c'è andrà subito là là e che cos'è aspetta ah no qua si chiama di brutto altri arcieri eh vabbè mettice ne altre due no oh ma vaffanculo venga venga qui tutti e due attenzione dribbling fa culo no però dovete beccare pure loro non è vero mamma mia la cattiveria aspettate buon uomo venga qui se no mi devo porca puttana no vabbè qua che cazzo siamo a fare in culata oh via mamma mia che cattiveria vedo un cazzo oh parati artù ok questi sono cattivi eh mamma mia attenzione da sinistro da sinistro spalla culo faccia aspetta porca la troia di Eva pur avvelenato qua venga venga qui buon uomo aspetti mamma mia mamma mia ok riaschetta ho finito con la riaschetta mannaggia la puttana attenzione attenzione ehi ma che cristo morto momento momento ho perso il muschio eh si vabbè allora ditelo no ditelo ditelo c'è un coploto la signorina è qua ci sta l'inculata sempre ci sta l'inculata qualunque cosa fai ti inculano vaffanculo va giovane vieni qua va lontani dal quadro magari perché lei attacco io non ci entriamo in due con lo scudo che cazzo ma cioè non poteva aspettare invadermi il che cazzo eh usurpatore anonimo uh aspetti fammi riprendere un po' di stamina che gioco ieri la sono resiliato vaffanculo va non c'ho più fiaschette e questo potrebbe essere un problema oggi ho un falocco avvicino attenzione stanno caricando mamma mia la cattiveria vaffanculo aspetta aspetti e basta fefer tu che te ne caschi qua cia bro ma non è che cattiveria dentro sto castello comunque e basta ste freccette che arrivano salve scusi come funziona qua momento prima mi affaccio da questo lato non mi fido se parlo con la signorina secondo me questa mi incul stiamo freschi qua stiamo freschi andiamo a parlare con la signorina e poi ci salutiamo perché qua c'è in cula signorina da quale parlo ok tosta diffidenza eh hai visto non morto maledetto stai caldo piacere hanno detto che tuo marito si ok quindi e dove cazzo sta signori ma dai ah quindi che fa scatta la sfida tra me e vendrick la vabbè ragazzi allora il cavaliere arturo con questa faccia un po' così smorta tra virgolette ci vediamo con il prossimo episodio dovrò naturalmente tornare al falò perché dove cazzo andiamo senza fiaschette con la spada distrutta e vabbè ci vediamo allora con il prossimo episodio mi raccomando fatemi sapere la vostra commentate e vabbè ci vediamo con il prossimo episodio un saluto a tutti da quel taleale